Rimarranno aperti anche domenica prossima, 3 novembre, gli esercizi commerciali in occasione del lungo ponte per la commemorazione dei defunti. Pochi nisseni che rinunceranno infatti ai tradizionali dolci siciliani di questo periodo dell'anno, ai giochi da donare ai più piccoli e anche ai fiori per ricordare almeno una volta all'anno i cari defunti. Per la commemorazione dei defunti ci siamo messi d'accordo con il centro commerciale naturale, con il commercio e con i esercenti, i negozi stanno aperti giorno 1 a venerdì, sabato stanno aperti giorno 2 perché lì è scritto rosso però noi abbiamo detto che apriamo anche per rispettare le nostre tradizioni, sappiamo tutti che poi i bambini cercano il regalo giorno 2 mattina, ma d'altro in linea con quello che abbiamo fatto negli anni passati. Quest'anno si è aperta anche la domenica perché vogliamo innescare il meccanismo di tutte le prime domeniche del mese restare aperti perché noi capiamo che dobbiamo andare incontro alla clientela ma non possiamo aprire sempre come fa la grande distribuzione. Loro forse avranno i soldi e hanno i nuovi schiavi che sono i loro impiegati. Noi come non vogliamo schiavizzare nessuno riteniamo che la qualità di vita delle persone va rispettata, le persone debbano avere anche il tempo di stare in famiglia, di andare in chiesa, di andare in qualche altro posto, di andare a vedere il museo, tutto quello che noi vogliamo. Per cui questo è quello che abbiamo deciso come piccola e media impresa, l'abbiamo deciso insieme a Convecommercio, al centro commerciale naturale, insieme al settore moda. Vorrei ricordare a tutti che questi accordi noi li pigliamo per far sì che il centro quel giorno viva perché vorrei ricordare che noi siamo città d'arte, fino a quando queste cose non vengono cambiate in effetto ognuno potrebbe fare quello che vuole, ma non ha senso perché o stiamo tutti aperti in alcune domeniche o altrimenti il consumatore non sa più cosa fare. Riscopriamo i nostri centri storici, rivalutiamo tutto, è bello ora Corso Umberto, si faranno gli altri lavori, pian piano soffriremo un po', ma riconquistiamo la nostra cultura e la nostra vita sociale nei nostri centri storici che sono belli, impariamo a riutilizzarli.